L'intervento dei vigili del fuoco di Ivrea, della Croce Rossa di Rivarolo Canavese e delle agenti di polizia locale in frazione Vesignano, oggi venerdì 10 novembre, poco prima delle 16. L'allarme è scattato per un incendio divampato nei locali della società di mutuo soccorso adiacenti alla pizzeria. Sul posto sono intervenuti anche il caro fiamma e i carabinieri. I vigili del fuoco sono entrati nell'appartamento che in quel momento era vuoto, l'incendio è stato prontamente spento. Indagini in corso sulle cause, l'ipotesi più accreditata è quella di un cortocircuito. Grazie a tutti.